Fabrizio Garbarino, Presidente del Consorzio Robiolo di Roccaverano, che quest'anno festeggia 40 anni di vita. Ebbene sì, per noi è un anniversario importantissimo, siamo una delle prime DOP d'Italia, la nostra nascita è il 1979 con decreto del compianto Presidente Sandro Pertini. Una DOP che dobbiamo ricordarlo a chi ci ascolta, fatta quasi esclusivamente di formaggi di capra. Sì, oggi la Robiolo di Roccaverano è fatta per il 99,9% di latte di capra, latte crudo di capra, di due razze, la capra Roccaverano che è una razza tipica e la camosciata alpina. Una razza che è conosciuta fin dall'antichità, tanto è vero che ci sono dei documenti che fanno risalire a oltre mille anni la lavorazione di questo formaggio. Assolutamente, noi abbiamo testimonianze della presenza delle capre dall'800 d.C., quindi oggi parliamo di 1200 anni di storia di formaggio di capra e lancastigiana. E per festeggiarla, fra tutti gli altri avvenimenti, quest'anno ovviamente ci sarà Cisa, ma altre iniziative sempre a Roccaverano e non solo. E non solo, faremo questo il 23 di marzo, pazzo mazzetti ad asti, un incontro sulle proprietà salubri della Robiola di Roccaverano col professor Calabrese e poi soprattutto faremo la nostra festa, sì chiaramente, il 29 e 30 di giugno a Roccaverano e come ben diceva lei a Cisa a settembre. Grazie a tutti.